carissimi amici argonauti lungo le vie dello spirito ben ritrovati sulla nostra piazza virtuale rappresentata dal canale fuoco sacro molto spesso fra i commenti fra le mail che mi arrivano o parlando anche con qualcuno di voi che ho il piacere di conoscere dal vivo mi viene chiesto dell'apocrifo di giovanni e oppure come recentemente accaduto mi viene mi sono poste delle domande attorno a quelli che sono i miti dell'ognosticismo i miti principali dell'ognosticismo ecco ho maturato quindi il convincimento che fosse utile dare vita a un piccolo ciclo di dialoghi incentrati proprio attorno ai miti raccolti in quel trittico di lavori in cui è presente anche l'apocrifo di giovanni e questo perché fondamentalmente in questo trittico di scritti che tra poco avremo modo di vedere sono raccolti quelle che sono i principali le principali narrazioni mitologiche dell'ognosticismo storico allora innanzitutto una premessa a livello personale l'agnosi e il mondo edizione tea è stato il primo testo di gnosticismo storico che mi è capitato fra le mani è un testo edito dalle edizioni tea a cura di luigi moraldi questo testo fa parte della collana religioni e miti un testo che per me è stato fondamentale in quanto da un lato mi ha avvicinato a quello che poi è stato ed è e sarà il grande unico amore della mia vita l'ognosticismo storico e dall'altro mi ha anche permesso di riflettere attorno a quello che è un diverso a quello che è un diverso modo di leggere anche l'antico testamento e in particolar modo la genesi questo diverso modo di leggere questa diversa lettura dipende dalla prospettiva che viene applicata ad essa cambia qualcosa e cambia fondamentalmente la lettura la comprensione il modo di intendere il modo di comprendere il modo di rapportarsi poi alle cose tutte e ovviamente la particolare chiave interpretativa che fu posta come come prospettiva come grimaldello come modo di entrare dentro al significato delle parole è quella ovviamente dell'ognosticismo storico che che porta avanti fondamentalmente alcuni concetti che possiamo riassumere semplicemente in questo modo esiste un dio prima di dio questo dio è un essere in manifesto alieno altro rispetto alla nostra al nostro piano manifestativo rispetto al nostro mondo quaternario con cui non ha niente a che spartire è questo un dio un essere per essere più precisi di perfezione assoluta immutabile uguale a se stesso è legato fondamentalmente alla all'intelletto puro esiste poi il dio di questo mondo variamente apostropato come dio minore come dio cieco come demiurgo come ialdabaoth come dio quadriternario dell'antico testamento questo per gli ignostici è il dio dell'errore è colui che ha dato vita a questa manifestazione su un difetto un difetto originario un credere fondamentalmente di essere l'unico dio un credere che le idee che poi ha tradotto in forme fossero espressioni del proprio intelletto mentre erano solamente dei ricordi sbiaditi, distorti, deformati appresi da sua madre Sofia cioè trasmessi da essa durante quella che è stata la scissione avvenuta durante la caduta pneumatica e di cui ne abbiamo anche già parlato l'altro elemento quindi stiamo parlando di di miti cosmogonici che stanno quindi alla creazione del cosmo e alla creazione della terra è il rapporto che si viene a creare tra questo demiurgo fra questo dio inferiore e l'uomo che è fondamentalmente un prodotto dell'ignoranza demiurgica un essere creato nell'errore e che fondamentalmente in sé raccoglie questo errore e su cui informa tutta la propria informa, scusate, il gioco di parole, vita l'altro tema fondamentale dell'ognosticismo qual è? è la possibilità attraverso l'agnosi di ricongiungersi al dio prima di dio di uscire da questo piano manifestativo di uscire dal mondo dell'errore di tutti questi miti e delle loro articolazioni e della loro narrazione e del continuo narrativo che c'è fra di essi quindi fra i miti cosmogonici i miti che riguardano l'antropologia l'antropos dell'uomo e i miti soterologici o escatologici cioè i miti che poi ti portano via da questo piano e che ne determinano anche in qualche modo la chiusura la fine se ne parla proprio nell'agnosi e il mondo arcontico testi, tre testi che sono l'apocrifo di Giovanni la natura degli arconti e l'origine del mondo che purtroppo oggi nella loro edizione nella loro prima edizione non sono più reperibili a parte ovviamente sulle bancherelle dell'usato perché l'atea per motivi propri ha deciso di non continuarne la pubblicazione io mi sono permesso proprio perché considero importanti questi testi di procedere ad una ritraduzione dei medesimi con delle note esplicative che ho raccolto nell'agnosi e il mondo arcontico ovviamente non la potevo chiamare l'agnosi e il mondo l'ho chiamato l'agnosi e il mondo arcontico praticamente abbiamo questi tre testi con una diversa traduzione in questo nostro primo dialogo mi permetto di fornire alcune informazioni quadro la prima informazione quadro qual è? questi tre racconti questi tre testi sono espressione della scuola barbelognostica chi erano i barbelognostici? anche di questo abbiamo già parlato erano un composito gruppo di comunità di scuole legate all'agnosticismo storico che quindi portavano avanti questi principi di base fondativi il dualismo il dio prima di dio il demiurgo che è il dio cieco insomma tutto quello che abbiamo già detto in precedenza e che fondamentalmente intravedevano nell'elemento femminile un agente di movimento discensionale e ascensionale è l'elemento femminile all'interno dei barbelognostici che determina la caduta pneumatica e è Sofia è l'elemento femminile all'interno dei barbelognostici che determina la risalita dell'uomo gnostico all'interno della plenitudine del pleroma attraverso Zoe che significa vita mentre Sofia significa sapienza e già in questo noi abbiamo una forte chiave di lettura vi ricordate fondamentalmente perché abbiamo la caduta pneumatica abbiamo la caduta pneumatica perché questo elemento dinamico la Sofia nell'ognosticismo storico vi ricordo che maschile e femminile non si riferisce al fatto che siamo nati con le scarpettine rosa o con le scarpettine celesti ma sta a indicare degli elementi dinamici i femminili e degli elementi fissi che sono gli elementi maschili questo eone periferico e come tutti gli eoni opera in coppia la sicizia gnostica a un certo punto decide di operare senza la propria controparte maschile e questo genera l'errore della Sofia fondamentalmente vi sono varie scuole varie interpretazioni attorno a questo errore la controparte della Sofia la parte maschile è il perfetto quindi che cosa significa fondamentalmente tutto ciò la sapienza qualora non è retta non è contenuta non è sviluppata attraverso la perfezione genera l'errore qual è questo errore l'errore è stato quello fondamentalmente legato all'orgoglio è l'orgoglio che determina in Sofia nella Sofia la volontà di non lavorare con la propria controparte maschile questo è questo determina la caduta che viene parzialmente parzialmente frenata dal pentimento della Sofia la quale rientra poi all'interno del plecoma ma tutto ciò ha dato vita a un prima durante un dopo che ha cascata da vita al demigurgo da vita agli arconti da vita ai sette cieli da vita a questo nostro piano manifestativo ed infine da vita all'uomo questa è la verticale discendente della Sofia dove il punto terminale è l'uomo in cui convivano e anche questo l'abbiamo visto in altri incontri sia un'anima dimiurcica sia una scintilla animica spirituale che possiamo chiamare anima spirituale che anela a ricongiungersi perché gli eoni lavorano in coppia con la propria controparte eonica quindi per ogni uomo gnostico esiste una controparte eonica come avviene ciò con l'incontro dell'agnosi che è individuale chi è che porta l'agnosi all'uomo e qui lo abbiamo e qui nell'agnosi nel mondo viene indicato è la Zoe che significa Zoe vita quindi l'agnosi individuale è vita è vita spirituale ma perché è vita perché è pienezza è pienezza che si contrappone a quella che è la sussistenza dell'uomo su questo piano su un piano fondamentalmente caduco transuente morente allora come viene articolato tutto ciò all'interno dell'agnosi e il mondo bene l'agnosi e il mondo affronta passo passo all'interno di questo quadro tutta quella che è l'epopea dell'uomo tutta quella che è l'epopea dell'uomo inteso sia come i suoi protogenitori cioè Adamo ed Eva qual è il rapporto di Adamo ed Eva col demiurgo perché realmente vengano cacciati dal paradiso terrestre e la loro discendenza un'epopea che però non è un'epopea universale perché l'ognosticismo non parla all'universalità degli esseri umani ma parla a coloro che sono in grado di essere compartecipi di comprendere in se stessi l'agnosi molto bello e lo vedremo è per esempio il brano dove fondamentalmente abbiamo il lavorio da parte dei vari arconti da parte del demiurgo per plasmare l'uomo e vediamo proprio che l'uomo è un qualcosa di composito e per coloro che fondamentalmente si sono scimentati nelle letture legate all'esoterismo e che hanno anche una certa pratica interiore potranno riscontrare come questa intuizione degli ignostici è presente in tantissime scuole e correnti a noi molto più prossime l'uomo è un accampamento di spiriti per basilide l'uomo per tante scuole neospiritualiste è un composito di tre cinque sette corpi e di questo lo vediamo ma quello che è fondamentale comprendere è come l'agnosi e il mondo trovi fondamento su una rilettura con diversa prospettiva dell'antico testamento e per essere più precisi della genesi l'agnosi e il mondo raccoglie questi scritti che sarebbero stati confidati da all'estensore dei medesimi da parte del grande apostolo che è individuato in San Paolo in Paolo di Tarso Paolo di Tarso per alcune scuole dell'ognosticismo storico è un gnostico è un gnostico per una serie di motivazioni la prima motivazione lui è un apostolo cioè una persona che ha divulgato l'insegnamento di Gesù Cristo ma che non ha conosciuto Gesù Cristo non è stato un suo discepolo diretto la storia di Paolo di Tarso ci racconta che lui era inizialmente un persecutore dei cristiani poi fu illuminato fu illuminato quindi un'illuminazione individuale e questa illuminazione individuale fondamentalmente lo portò a ricevere un insegnamento quindi questo per gli gnostici storici lo configura come non un uomo che viene investito da un messaggio universale di cui ha una visione squisitamente dialettica ma un uomo che riceve individualmente in un rapporto uno ad uno un messaggio profondo un messaggio che cambia radicalmente la vita dell'uomo stesso inoltre se noi andiamo a leggere tutta una serie di scritti riconducibili a Paolo di Tarso vediamo che in questi scritti ci sono tutta una serie di frasi di espressione che possono essere variamente interpretate la lotta contro le potenze che governano questo mondo oppure quando Paolo di Tarso ci narra che lui ha conosciuto un uomo che lui non sa bene come se in sogno o se in altro modo è asceso oltre i cieli quindi fondamentalmente ci sono tutta una serie di richiami in Paolo di Tarso che sono come dire sincroni che risuonano all'interno della narrazione gnostica un'ultima considerazione l'ognosticismo che deriva ovviamente dalla parola agnosi non è conoscenza razionale tutt'altro questo è un drammatico errore che è compiuto da tutta una serie di persone che hanno una visione molto superficiale di questo variegato movimento la conoscenza di cui si parla di cui si tratteggia di cui si suggerisce all'interno dell'ognosticismo è una conoscenza che fondamentalmente da un lato ha la necessità di prendere le mosse da alcune considerazioni iniziali che sono quelle che abbiamo detto che abbiamo enunciato in apertura di questo dialogo il dio perché non è il dio il dualismo l'uomo composito e quant'altro e dall'altro fondamentalmente è legata alla rinuncia del processo dialettico razionale alla rinuncia delle relazioni cioè di un pensiero che è frutto della interazione con le cose di questo mondo che è in qualche modo sollecitato quindi reattivo rispetto alle cose di questo mondo l'ognostico si chiude in se stesso fa il vuoto in se stesso e da questo vuoto emerge altro questo è il tipo di conoscenza è una conoscenza di immagini è una conoscenza di orditi di immagini e questo è il modo di rapportarsi poi ai miti dell'ognosticismo i miti dell'ognosticismo non è che debbano essere frutto di speculazione sì certo è importante è importante la contestualizzazione del mito il cercare di comprendere la funzione che esso ha e da cui esso prende le mosse ma bisogna ricordarci che non è la parola non è che la somma delle parole che raccolgano il mito siano il mito stesso no sono un espediente comunicativo io attraverso la lettura di questi passi comunico riesco a comunicare a voi l'esistenza e la forma di questo mito ma non è il mito è l'aspetto perimetrale è la superficie del medesimo che poi deve essere calata progressivamente all'interno di noi dobbiamo muoverci all'interno di questo mito questo è il vettore è lo strumento principale dell'ognostico e sarà lo strumento di cui noi ne vedremo la forma nell'apocrifo di Giovanni nella natura degli arconti e nell'origine del mondo che compongano l'agnosi e il mondo se preferite l'agnosi e il mondo arcontico ai prossimi dialoghi in merito di Giovanni Grazie.